Ho deciso di inviare la mia candidatura perché avevo una passione scommisurata per l'informatica ed era una parte della programmazione, dello sviluppo web, che mi mancava. Quindi l'ho fatto per unire più competenze. Mi sono candidata al Born to Code perché sono molto interessata al web development e infatti credo che sia una grande possibilità di ottenere delle conoscenze più specializzate. Sapevo che era una grande opportunità e avrei potuto rinunciare anche ai primi mesi di università per partecipare sperando di continuare a collaborare col team che verrà creandosi adesso durante il corso. Sicuramente ci daranno delle basi molto importanti e ci daranno modo di entrare anche nel mondo del lavoro a differenza magari di altri corsi. 21 giovani talenti nati per programmare. Born to Code è il nome dell'academy di coding sponsorizzata da Gruppa MA, leader nel settore delle assicurazioni. L'idea è di permettere ai ragazzi selezionati, tutti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, di frequentare gratuitamente un corso di alto livello che permetta loro di acquisire delle competenze in ambito informatico. Per tre mesi i vincitori seguiranno un corso presso la Lewis & Labs, una fabbrica di start-up dove apprenderanno, tra le altre cose, ad utilizzare il linguaggio HTML e CSS. A spingere questi giovani a partecipare sono la passione per il web ed il desiderio di trasformare il proprio interesse in un vero mestiere. Ma da cosa nasce la decisione di Gruppa MA di unire il proprio nome a questa iniziativa? Lo abbiamo chiesto all'amministratore delegato del gruppo. Noi siamo le rappresentanti in Italia di una mutua francese e le mutuè sono hanno dei valori molto forti come la prossimità, come il sociale aiutare l'altro e dunque è normale per noi di aiutare Giovanni di oggi a trovare dei lavori molto più interessanti perché è un lavoro innovazione e la nostra società, anche se siamo arrivati in Italia nel 1881, siamo innovativi, molto innovativi perché abbiamo già lanciato molte operazioni di oggetto e macchine connessi, ne abbiamo sul nostro portofolio oggi più di 320.000 macchine che sono connessi, dunque siamo in pieno all'innovazione. Un'opportunità concreta per sostenere la formazione digitale delle nuove generazioni. Un'opportunità concreta per sostenere la formazione digitale delle nuove generazioni.